Eccoci tornati anche per la pagina sportiva del TG Noe, prosegue la preparazione della Lucchese in vista della gara di domenica prossima, vi ricordo ore 18.30, al Portelisa contro la Robur Siena degli ex Arrigoni e Mignani. Favarini ha le prese con una discreta emergenza, visto che mancheranno i due difensori centrali Martinelli e Gabbia, il centrocampista argentino Juan Mauri dovrebbe invece recuperare. Da capire come il tecnico rosso-nero vorrà sostituire gli assenti ed anche se porterà modifiche sul piano tattico. Lombardo resta una soluzione come difensore centrale, affiancato magari a De Vito, probabile a quel punto l'impiego di Zanini esterno a destra, ma è veramente presto per parlare di formazione. Di certo invece la Lucchese dovrà cercare una vittoria per risalire la classifica, che attualmente la vede relegata all'ultimo posto con cinque punti. Dietro le cosiddette squadre meno attrezzate continuano a fare risultato e quindi anche la Pantera deve ricominciare a correre. Del resto arriva un Siena, reduce dalla sconfitta interna con la Pro Vercelli e che a sua volta una classifica tutt'altro che esaltante. Ricordiamo venerdì Favarini ha predisposto due allenamenti, due seduti, una mattutina e una pomeridiana. Scendiamo in serie D, abbiamo già abbondantemente parlato della clamorosa sconfitta interna del Ghiviborgo, Roy Lepore ci completa il quadro e il commento del turno infrasettimanale. Il Vareggio ha vinto meritatamente il derby con il Real Forte Quercita per 3-0, dimostrando rispetto ai nerazzurri di essere una squadra più organizzata. Non c'è stata reazione dopo il cambio di allenatore con Marco Braghi in panchina che ha preso il posto dell'esonerato Carlo Bresciani. I bianconeri sono passati in vantaggio nel primo tempo dopo aver protestato per la mancata segnazione di un calcio di rigore per un fallo di mano con il giovane Noccioli dei 7 under in campo. Le altre reti bianconeri sono di Chichiarelli nella ripresa, terzo centro subentrando dalla ripresa e di Mattei. Il Real Forte ha colpito due legni della porta difesa da Fiaschi, per l'ex Ferretti ha sprecato nel finale la palla del 4-0. Domenica trasferta sul campo della San Giovannese. Successo da parte del Seravezza Pozzi contro il Prato 3-0 dopo la sconfitta per 5-1 subita a Ponzacco. Mister Vangioni ha ritrovato Rodrigues in attacco che è andato regolarmente a segno nel gol del 3-0 che ha chiuso la gara. Le altre due reti per il Seravezza sono state siglate da Bortoletti che ha sbloccato il risultato e Bedini alla chiusura del primo tempo. Un bel riscatto in vista della trasferta sul campo del Trestina di Domenica. Mister Vangioni afferma che sono ripartiti dagli errori commessi a Ponzacco. Sconfitta per il Ghiviborgo con l'Aglianese in casa 4-1, alla vigilia domenica della trasferta al Necchi Balloni con il Real Forte Querceta. Sono di fronte due squadre alla ricerca di un immediato riscatto. Oltre 200 tifosi presenti, così la festa viola che si è svolta a Monte Carlo organizzata dai viola club Barga e dal viola club Capannori. Ospiti il difensore brasiliano Victor Hugo, il difensore Federico Ceccherini e le due centrocampiste della Fiorentina Women's, tra cui la via regina doc Greta Adami. C'erano anche delle vecchie glorie della Fiorentina, Luciano Chiarugge e Claudio Merlo, ma soprattutto la bandiera per Antonomasia che vediamo in questa foto al centro Giancarlo Antonioni. Calcio a 5, campionato di C2, l'Oltre Serchio torna vittorioso per 6-4 dalla trasferta di Ponte Elsa con il Fuzzal Empoli allungando a 4 la striscia dei successi consecutivi agganciando la zona playoff in un campionato sempre più equilibrato. Pensate le prime 7 sono ora chiuse in soli 4 punti. Un match davvero impegnativo per l'Oltre Serchio che però ha avuto la meglio dopo il primo tempo che si è chiuso sul 3-3 grazie ad un'ottima ripresa. Biase ancora una volta protagonista con una tripletta. Adesso per i lucchesi di Tognocchi e Mandoli si prospettano altre due impegni terribili. La difficile trasserta di venerdì a Cascina con la Trident Sport che ha gli stessi punti dell'Oltre Serchio, ma la settimana successiva soprattutto il big match a Farneta contro l'attuale capolista un po' a sorpresa, Limite e Capraia. Il basket femminile, campionato di promozione, terza partita di campionato e terza vittoria per la squadra del basket femminile Porcari. Stavolta le ragazze di Stefano Corda hanno superato 39 a 29. Il pomarance nella gara che ha segnato l'esordio davanti al pubblico del Palasuore. Prossimo impegno domenica 18 novembre ancora al Palasuore contro il Synergy Valdarno. Inizio della gara alle ore 18. E a Lucca si svolgeranno, come ormai sapete, campionanti italiani a squadre di tennis. Le finali dal 7 al 9 dicembre. La manifestazione è stata ufficialmente presentata. Si avvicina a grandi passi l'attesissima Final Four di Serie A 1 di tennis evento che dal 7 al 9 dicembre porterà proprio al Palatagliate di Lucca l'atto conclusivo e più esaltante del campionato italiano a squadre maschile e femminile. Due, le squadre lucchesi ancora in lizza per una possibile qualificazione, il Tennis Club Italia Forte dei Marmi in campo maschile e il Circolo Tennis Lucca Vicopelago in quello femminile. Il grande evento è stato presentato nei locali del Circolo Tennis Lucca Vicopelago con la partecipazione del presidente onorario della FIT Toscana Paolo Antonioli e del vicepresidente Vezio Trifoni. Sono intervenuti anche l'assessore allo sport Stefano Ragghianti e il delegato Coni Gianpaolo Bertoni, i quali si sono detti soddisfatti e orgogliosi di come la città stia diventando sempre più aperta e disponibile a qualsiasi novità. Le finali rappresenteranno un veicolo di grande promozione, nonché una vetrina di assoluto prestigio per la città di Lucca, sia in termini economici che mediatici. Sì, saranno dal 7 al 9 dicembre, si sfideranno le due migliori squadre maschili e le due migliori squadre femminili e aggiudicheranno lo scudetto 2018. Abbiamo scelto Lucca perché è una città fantastica, abbiamo trovato delle persone qua al Tennis Club di Lucca che collabora con noi entusiasti, con tanta passione e quindi siamo certi di portare un valore aggiunto alla città di Lucca, anche dal punto di vista turistico. Il prossimo appuntamento adesso in programma per lunedì 4 dicembre, quando alla presenza di Sergio Palmieri, direttore della Final Four, saranno presentate nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti a Lucca le quattro squadre che si contenderanno lo scudetto, ovviamente con l'ospicio che ci siano anche le nostre. Sabato 17 novembre torna il consueto appuntamento con il biathlon di Castelvecchio Pascoli, la nona edizione, gara conosciuta anche come biathlon pascoliano, a cambio alternato tra un podista e un biker. Il percorso è collaudato con diversi giri intorno al paese, la partenza della gara è fissata per le 14.30. Chiudiamo con una breve di hockey, due arbitri via Reggini, Luca Molli e Massimiliano Carmazzi, dirigeranno sabato l'incontro di Eurolega di hockey su pista tra Reus Deportivo, squadra spagnola e i portoghesi del Porto. È tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi, una breve pausa e poi torniamo con la terza ed ultima parte.